On data di maltempo su tutta la campagna, ieri la protezione civile della regione campagna ha diramato l'avviso di allerta meteo per venti e mari dalle 6 alle 21 di oggi. A questo avviso si è da poco aggiunta una nuova allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo, valevole sull'intero territorio a partire dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani. Le condizioni meteomarine sono proibitive, il forte vento da sud ovest ha determinato la sospensione dei collegamenti con mezzi veloci da e per le isole del golfo. I traghetti invece proseguono il servizio con notevole difficoltà. Il mare è in burrasca, spazzato da poderose raffiche di vento di ribeccio che soffia sino a 37 nodi da sud ovest. Del porto di Pozzoli il forte vento continua a creare difficoltà, un traghetto è rimasto fermo in rada per circa un'ora prima di riuscire ad attraccare. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteomarine.